Io sono sconcertato perché insomma quando si tocca una redazione dovrebbe essere un tempio sacro per chi scrive, per la verità che cerchiamo. Probabilmente cercavano carte, documenti relativi alla cronaca, alla giudiziaria, un avvertimento forse, in ogni caso un atto vile, non un semplice tentativo di furto. Ne è convinto il direttore Gianni Festa che questa mattina ha trovato la redazione del suo storico giornale, Il Quotidiano del Sud Corriere dell'Irpinia, messa a soccuadro da ignoti che nella notte sono entrati dalla porta sul retro forzandone l'ingresso. Prima hanno rovistato nell'archivio documentale, poi hanno messo sotto sopra gli scaffali. Allertate le forze dell'ordine, sul posto in via Annarumma d'Avellino sono intervenuti gli agenti della Digos. Dalla redazione non è stato trafugato niente, si propende perciò per l'atto intimidatorio. Al direttore Festa è giunta la solidarietà da parte delle istituzioni, dell'ordine dei giornalisti e del sindacato di categoria. Questo gesto mi preoccupa e non poco, probabilmente può essere un avvertimento. In realtà, dallo stato in cui ho trovato stamattina, molto presto, la redazione, ho l'impressione che si cercasse qualche documento. I cassetti trovati a soccuadro, tutto sui veimenti, mi fanno immaginare che qualcuno, siamo probabilmente forse anche qualche mandante alla ricerca di qualcosa che probabilmente fa parte del nostro mestiere. Io penso che agiamo con umiltà alla ricerca della libertà. Siamo una voce che rappresenta la realtà provinciale. Possiamo dar fastidio certamente a qualcuno. In passato ci sono già stati atti intimidatori contro il Corriere Il Quotidiano del Sud, il lavoro della redazione continuerà? Certo, non ci fermano questi atti intimidatori, questi tentativi di fermarci e di bloccarci. Qualche anno fa ricevemmo una busta con dei proiettili, anche allora denunciai tutto, poi non ho saputo che fine hanno fatto. Se c'è stata un'inchiesta, com'è finita? La cosa che mi sconcerta è che in una provincia così piccola, se vai alla ricerca della verità, fai fastidio a qualcuno.